Una valigia per sognare è il nuovo corso per il primo ciclo di Fabri Erikson per sviluppare le competenze di base in maniera semplice e graduale, attraverso le migliori metodologie didattiche. Il corso fa parte di DAI, il progetto di edizioni Erikson e Rizzoli Education per realizzare strumenti didattici ed editoriali che non lasciano indietro nessuno. Il corso propone una serie di strumenti e percorsi integrati per sviluppare le competenze di base. Nel quaderno dei prerequisiti ci sono tanti nuovi strumenti di accoglienza per costruire, giocare, iniziare a imparare facendo. Nel metodo sono presenti percorsi per la competenza metafonologica. Al momento dell'adozione si può fare la scelta tra la configurazione con i quattro caratteri e quella con solo lo stampato maiuscolo. Nella letta della copertina c'è il sillabario. Nel quaderno per scrivere, le vocali vengono presentate nell'ordine I, E, A, O, U, dalla più facile alla più difficile quando si scrive in stampato maiuscolo. L'ordine delle consonanti tiene conto delle difficoltà dei suoni. Una sezione del quaderno è dedicata al passaggio dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo. Nel libro di letture di classe prima è presente un'ampia sezione dedicata al delicato passaggio dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo per la lettura. In matematica, un personaggio guida e uno sfondo integratore consentono di motivare e coinvolgere gli alunni e le alunne. Il percorso iniziale parte dal quaderno dei prerequisiti ed è parallelo alla letto-scrittura. Una valigia per sognare introduce un metodo di studio adattato alle esigenze di tutti gli alunni e tutte le alunne di terza. In grammatica, i grandi casi dell'ispettore ortografoni, attività e storie motivanti per mettere in pratica le conoscenze ortografiche. In matematica, i misteri matematici di Villa Tenebra, percorsi di giochi matematici dalla prima alla terza con brivido. Il mio libro di arte e musica di Alessandra Falconi ed Elisabetta Garilli, il percorso operativo per le materie artistiche. Nella valigia per sognare ci sono due quaderni di italiano e matematica pensati per dare ancora più operatività a bambine e bambini e offrire un aiuto in più a maestre e maestri nel momento della valutazione. Il corso mette a disposizione testi facilitati e semplificati per lettura, storia, geografia, scienze e matematica. Fabri Erikson propone per la prima volta nella scuola italiana dei kit di materiali per tutto il team docente, insegnanti curricolari e di sostegno. Questi materiali, a cura di Sofia Cramerotti, Dario Ianes e Flavio Fogarolo, permettono di progettare insieme attività didattiche per tutto il gruppo classe e quindi di lavorare tutti insieme. Una valigia per sognare è il nuovo corso per il primo ciclo Fabri Erikson per sviluppare le competenze di base in maniera semplice e graduale, senza lasciare indietro nessuno. Grazie per la visione!